Buongiorno, buon lunedì, good morning Milano, come state? Come va? Sono le 7.09 che si sarebbero le 8.09, quanti giorni andremo avanti a fare questo giochino? Ma che ore sarebbero state l'altro ieri? Quindi sono le 7.09, punto, non fate più i conti, non fate più star lì a capire se siamo prima, se siamo dopo, fa niente, tanto sono le 7.09. Vi sarete accorti però che la luce è già accesa fuori dalle vostre case, appunto abbiamo posticipato la nostra sveglia e quindi c'è più luce rispetto a quella che c'era venerdì. Siete contenti? Va bene, per qualche settimana andrà ancora così, dopo ritorneremo nelle tenebre fino a marzo. Comunque va bene, l'importante è che invece siamo qui pronti a partire, collegati su Crystal Radio ad ascoltare Good Morning Milano e a raccontarci un po' quello che succede in città. Abbiamo i giornali davanti, abbiamo il vostro weekend che è appena passato e che potete raccontarci alla 331-78-53-555. Insomma possiamo davvero condividere insieme tutto quello che abbiamo fatto nel weekend o quello che faremo questa settimana. È lunedì, come dicevo, quindi iniziamo una nuova settimana in compagnia di Crystal Radio, in compagnia della musica, in compagnia delle notizie e soprattutto, ripeto ancora una volta, in vostra compagnia. Ve lo ripeto ancora una volta, è il numero 331-78-53-555. Il nostro numero di WhatsApp, sempre pronto a ricevere le vostre suggestioni, le vostre condivisioni, tutto quello che volete qui ogni mattina insieme fino alle 9. Questa è Good Morning Milano! Who's Bad? Michael Jackson con Bad alle 7 e 15 minuti qui su Crystal Radio. Good Morning Milano, lunedì 28 ottobre. Siamo arrivati mai alla fine e già tutto arancione in giro per le strade, le città, i negozi. Avete visto tutto in vista del Halloween che arriva a questo fine settimana. Ma grazie anche a chi ci sta scrivendo invece i suoi WhatsApp al 331-78-53-555. Ci scrive Alberto che dice una buona settimana a Fabio, alle ragazze della reddizione e a tutti i cristallini in ascolto. Quando leggerai questo messaggio sarò già in viaggio verso il Lario. Bravo che Alberto ci manda prima perché poi si mette a guidare. Quindi giustamente ci sta magari ascoltando ma non ci può scrivere. Grazie anche all'amico Gianni che si è svegliato presto anche lui questa mattina e mi accompagna in questa non facile giornata. Allora speriamo di renderla un pochino più semplice magari grazie alla musica ma soprattutto grazie a tutti gli ospiti che eravamo qui con noi questa mattina e anche alle varie rubriche. Attenzione perché dopo torna anche Beazzi, sì sì anche Beazzi torna qui per raccontarci la generazione Z, un'altra canzone, un altro significato, un'altra motivazione per ascoltare quella musica. Ma prima di tutto è lunedì e lunedì insomma ci si dice sempre perché ci si vede buon lavoro. E chi ce lo dice soprattutto tutti i lunedì grazie alla sua preparazione, grazie a tutto quello che tutte le settimane e tutti i giorni racconta su LinkedIn è Filippo Poletti appunto top voice di LinkedIn che tutti i giorni sul suo profilo racconta storie di lavoro, di eccellenze soprattutto del lavoro e di buone notizie dal mondo del lavoro e che tutti i lunedì ci regala tre parole per definire al meglio appunto la settimana che sta per iniziare, per definire il momento lavorativo che sta per iniziare. Allora non possiamo che chiedere a Filippo quali siano appunto le parole della settimana, quali sono le tre parole di questa settimana? Filippo lo chiediamo a te, Filippo Poletti, buon lavoro! Buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è casa, piano casa a Edison, ascoltate bene, casa per tre anni con possibilità di subentro successivamente nel contratto. È un progetto di medio-lungo termine, ha spiegato l'HR Giorgio Colombo. Ad avere diritto saranno i giovani laureati assunti su tutto il territorio nazionale che appunto abbiano bisogno di un'abitazione. Cosa farà l'azienda? L'azienda coprirà la differenza tra un terzo, comprese le spese, dello stipendio netto mensile e il costo dell'affitto. Poi al quarto anno il lavoratore potrà subentrare nel rapporto contrattuale con il proprietario. Interessante il piano casa di Edison. La seconda parola chiave della settimana è yoga. Due ore di yoga o pilates alla settimana al posto di due ore di lavoro. Dove accade? Accade Annette Seals, l'azienda di guarnizioni romagnola con quasi 50 dipendenti. Ascoltate, al posto delle 40 ore, chi sceglie o sceglierà di aderire alla proposta ne svolgerà appunto 38, sostituendo le ultime due con altrettante ore di attività fisica. È il benessere al lavoro durante il lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è smart working a obiettivi. Standard due giorni di smart working su base ovviamente volontaria. E se lavori bene ne puoi fare cinque. A introdurre lo smart working avanzato è il comune di Roma per i 9.000 dipendenti. Quando siamo stati in difficoltà per il pagamento del TFR alle insegnanti, ha spiegato l'amministrazione del comune di Roma, una dipendente del 13esimo municipio è riuscita ad evadere tutte le pratiche da sola in cinque giorni di lavoro. È la conferma che questo strumento, hanno dichiarato, può migliorare le performance. Dunque smart working con obiettivi da riflettere. E allora, buon lavoro a tutti! I pinguini tattici nucleari romantico ma muori. Come ieri sera è stata romantica, credo, non lo so, così mi verrebbe da definirla. Ma sicuramente appassionante la partita tra Inter e Juve 4-4. Cioè, otto gol in una partita non è male. Nel senso, è successo di tutto, di più. Beh, non l'avrete sicuramente seguito. Appunto, calci di rigore, di tutto. E soprattutto anche gli Ultras dell'Inter che appunto a San Siro hanno fatto una sorta di protesta per chiedere, diciamo, nel senso, cioè per, come si dice, per protestare, scusate. Stavo leggendo il titolo, mi viene in mente. Ma ti dice Ultras Inter da Repubblica Milano. A San Siro nuovo striscione e polemiche contro il caro Biglietti. Dopo gli arresti e l'inchiesta sul tifo sostituito del vecchio striscione, Curva Nord con il nuovo, dal 1969, Uniti, Fieri e Mai Domi. Quindi non c'è stato più scritto, appunto, Curva Nord, ma questo striscione. Striscione a seconda Nello Verde che dopo appunto gli arresti ha lasciato spazio, no? Non più allo striscione della Curva Nord, ma a questo striscione conscritto dal 1969, Uniti, Fieri e Mai Domi. E poi la Curva contro il caro Biglietti. Nella rivistina, che è quella appunto, foglietto, diciamo, la fanzina, possiamo chiamarla, che viene data e distribuita, il direttivo degli ultralanteristi sottolinea come l'intenzione sia riaffermare i valori fondamentali degli Ultras come fedeltà e rispetto per i colori nero-azzurdi. I canali ufficiali della Curva restano l'account Instagram ribattezzato Secondo Anello Verde, e quindi non più Curva Nord, e la pagina Facebook L'Urlo della Nord. Gli Ultras precisano che i soldi raccolti con la venta della fanzina servono a finanziare coreografie e trasferte, rafforzando il senso di comunità. Infine, appunto, la tifoseria organizzata ha criticato l'aumento dei prezzi dei biglietti della Curva. Ricordiamo che appunto stanno raggiungendo dei livelli altissimi i biglietti, i costi, soprattutto ricordiamo anche Milan-Juve che sarà a novembre, anche su quello, grande polemica, che molti cominciano a dire che questo è l'antipasto di quello che appunto è l'anteprima, la preview di quello che potrebbe succedere con il famoso nuovo stadio, lo sappiamo benissimo, nuovo stadio che vedrà l'investimento milionario delle due squadre e che vedrà soprattutto la creazione di ancora più posti, diciamo di skybox, come si dice in questi casi, di posti premium, di posti con biglietti davvero, davvero molto costosi e ovviamente la Curva e i prezzi più popolari, come si definivano una volta, verranno molto probabilmente cancellati o comunque appunto sempre meno disponibili i posti con prezzi popolari. Quello dei prezzi dei biglietti è una questione che in realtà ormai è tutta solo nostra, nel senso italica, verrebbe da dire, perché all'estero è già inaccessibile, spesso e volentieri, e ci sono dei costi, io porto sempre l'esempio dell'NBA, per andare a vedere una partita NBA, meno o meno di 90-100 dollari non spendi ormai, c'è neanche la partita più sfigata in cartellone, non parliamo poi di andare giù nei posti vicino al campo, magari vedere un Lakers-Boston, ecco, lì non ti bastano 500-600 dollari, se non anche 1000 per certi punti. E' vero, è però che appunto il calcio nasce con altre prerogative, il calcio in Italia e gli stadi in Italia nascono ovviamente sotto una luce diversa e quindi molti, e non solo le curve, stanno protestando per quello che appunto potrebbe succedere, già succederà con Milan New, appunto, nei primi giorni di novembre e già poi, insomma, si pensa, potrebbe succedere con l'arrivo del famoso nuovo stadio che poi, chissà quando mai arriverà e soprattutto, si arriverà, dove arriverà? E questa è la domanda che si vanno in tanti, tutti dicono tutto e nessuno però riesce a capire niente. Questo è quello che succederà per lo stadio di Milano. Salorino Salerno con Boys, Boys, Boys. Sì, non è Boys, 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 ma anzi è Girls, Girls, Girls questa mattina perché qui con noi c'è Beasi. Beatrice arriva col sorriso porto vuoto. Ecco, il suo sorriso, sì. Ci accende la luce in studio, guarda. Scopriamo con lei le canzoni che ci rendono. Ecco, non so cosa ci rendono queste canzoni. La sporta ti colpoge, ti si accende il cuore. Ci accende il cuore. Canta con Beatrice. Risplende il suo jingle. Canta con Beatrice. Risplende il suo jingle. Che dura di più del suo intervento, vorrei sempre condare. Vatti. Poi impazzisce a un certo punto. Potremmo tagliarle. No, perché c'è il testo più bello. Fabio, ascolta, è tempo di imparare. Eccomi qua. Buongiorno Beasi. Buongiorno a tutti quanti. E allora, siamo qui al nostro appuntamento del lunedì con la comprensione del testo, per me da dire, come si faceva a scuola. la comprensione della generazione Z con attraverso, anzi, lo strumento della musica. Esattamente. Che anche alle sette e mezza del mattino comunque è un protagonista della vita anche della Gen Z. Sì. Ascoltate tanta musica? Eh beh, tantissima. Io poi, ad esempio, mi sveglio la mattina mentre vengo qua, musica. Musica. Quindi già dalle sei. Già dalle sei, musica. Musica. Esatto. Perfetto. E allora, questa mattina ci hai portato un'artista, non so di dove sia. È una cantautrice americana. Americana. Si chiama Sabrina Carpenter. Ah, famosissima. La carpentiera. La carpentiera. L'irreprensibile carpentiera. Come si fa a lo conoscere? Esatto. Conosciutissima da moltissimi giovani, soprattutto perché lei ha iniziato come attriciattola. Cioè, recitava nelle piccole serie per ragazzi, quelle che andavano tipo su Nickelodeon, cose così. Poi ha scoperto che in realtà voleva… C'è una Selena Gomez che ha fatto un po' meno Selena Gomez. Molto più basso di Selena Gomez. Sì, sì, sì. A livello… Sì, 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 sì. Ah, ma è per quello che ho visto che adesso, se sbaglio, ha fatto un video insieme all'attrice che fa a mercoledì, mi sembra, forse. Ha fatto un video… È di questa canzone qui che porteremo oggi. Ah, vedi, vedi, vedi. Ah, vedi, vedi, vedi. Ma allora cosa facciamo? Ci ascoltiamo prima la canzone e poi ce la racconti o poi il contrario? Cosa vuoi fare? No, ascoltiamola. Ci ascoltiamo prima la canzone e poi ce la racconti? Sì. Va bene. Come si chiama la canzone? Taste. Taste. Sabrina? Carpenter. Carpenter. Quindi Sabrina la campentiera con taste, che sono il plurale dei tasti. Esatto. È il plurale del plurale dei tasti, va bene, ok. Alle 7.38 qui su Good Morning Milano, Cristian Radio, Sabrina Carpenter con Taste. Sabrina Carpenter, Carpenter, per Carpentiera, con Taste. Alle 7.41 minuti, Cristian Radio, Good Morning Milano. La risultata che sentite è quella di Beyazee, che adesso ci dovrebbe, tecnicamente, così da contratto, raccontare e farci comprendere questa, che credo sia una delle canzoni più banali che vi ho mai sentito nella storia della musica. Esattamente, esattamente. A livello di testo, profondità del testo, non è molto complesso. Ok, allora perché l'abbiamo ascoltata? Perché, grazie, cioè Sabrina Carpenter, che prima non era letteralmente nessuno, se l'erano dimenticata tutti, con questo nuovo album, di cui questa canzone fa parte, che si chiama Short and Sweet, che dovrebbe essere un po' il suo alter ego. Infatti, lei ha visto delle foto molto alla Marilyn Monroe, capelli belli, voluminosi, tanto blush. Lei è diventata proprio un'icona nel pop americano. perché trasmette questa idea, soprattutto alle ragazze, di essere molto a proprio agio nel parlare di sessualità, anche propria, cioè nel senso di parlare liberamente di ragazzo che ti piace, ragazzo che ti sei portata a letto, ragazzo che vuoi farci le tue cose, cose sconce a livello sessuale. Cosa che noi maschietti facciamo da sempre. Sì, però per noi ragazzi... E poi porta questa ventata, soprattutto sia alle ragazzine, di una sorta di autostima, cioè una sorta di essere... sono bella, sono fantastica, posso fare quello che voglio perché sono... Tutto questo con una canzone completamente inutile. Una canzone che in realtà non è troppo inutile perché fa riferimento a un aneddoto di vita reale della cantautrice. Infatti, questa canzone fa riferimento ad una relazione passata che lei ha avuto con... un altro cantante, non so se conosci, Shawn Mendes, che andava... Sì, sì, sì. Andava un botto. Io sono anche andata... Era uno di quelli che iniziavano le canzoni dicendo il suo nome. Shawn Mendes faceva così. No, non è lui. Ah, non è lui, no. Non lo so. Non è lui, non è assolutamente lui. È tipo sull'onda di Justin Bieber. Ok. Quelle icone, soprattutto per le ragazzine che fanno un po' pop. Stavo guardando, infatti, la Carpenter è del 99. Ah, 25 anni. E Camilla Cabello, che è quella delle Fifth Harmony. Sì, questa è la conosco. In pratica, lei stava con questo Shawn Mendes, poi si sono mollati. Un belloccio canadese. Esatto. Questo belloccio canadese si è messo con Camilla Cabello. Ha capito. E a quanto pare a Sabrina Carpenter non andava tanto bene, anche se si erano mollati. Infatti, in questa canzone, il video di questa canzone è da vedere perché è bellissimo. Ci sono un sacco di riferimenti alla famiglia Adams. Ah, ok. C'è un riferimento a quel film con Mary Streep che si chiama Death Becomes Her. Non so il titolo in italiano. La morte ti fa bella. Dove lei, appunto, c'è proprio una scena dove lei ammazza con il fucile dell'amante. Ok. La morte ti fa bella. Replicata in questo bellissimo. Ci sono loro due che si ammazzano tutta la durata del videoclip. Ok. Posso spoilerare. Sì, intanto è un videoclip. Dominio pubblico, non c'è bisogno di abbonamento a Netflix o Disney. E poi, in realtà, vengono accecate entrambe da questo senso di vendette e odio l'una per l'altra che ammazzano il tipo. Ah. Ammazzano il fidanzo. Quindi il mio nemico, il mio miglior amico, poi alla fine diventa. Una sorta, sì. Perché abbiamo un nemico in comune. Eh, esatto, esatto. Quindi questo a me era piaciuto moltissimo, soprattutto per il videoclip. Poi per un po' questo senso che lei vuole dare di... Va bene, adesso sta con te, ma comunque il taste che avrà per sempre è il mio, perché io sono venuta prima di te. Questa cosa un po' orgogliosa, capito? Capito, sì. se si ha sui propri ex. Non so se anche tu la... No, non mi capita, mi spiace. Forse è una cosa più da giovane. Non lo so, non lo so. Anche i cani, quando fanno la pipì negli angoli, lasciano il proprio taste. È una cosa un po' più male. È quello, infatti, mi viene più bene, è quello. Cioè dice, ti ho lasciato il mio odore addosso, il mio sapore addosso. Eh, infatti nel testo lei dice, chissà come mai ti fa quelle battute che fanno così ridere, chissà da chi le ha imparate, secondo te, da chi le ha imparate. Ah, pure, capito, capito. Ma le due sono quelle reali, non nel videoclip, le due reali, cioè la Carpenter e Camilla Camillo sono diventate amiche adesso, oppure si odiano la follia. No, no, si detestano. Quindi è un po' anche dissing questa canzone, un po'? Sì, 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 un po' quella roba lì. Infatti Camilla Cabello ha fatto, stava facendo una performance e doveva dire una frase dove c'era la parola taste, ok? Non ha detto la parola, cioè ha schippato la parola, non l'ha detta proprio. Non si può neanche più nominare la parola taste. Non l'ha detta, perché faceva riferimento, non voleva evidentemente fare riferimento. E ovviamente non dicendola, ha fatto più riferimento. Esatto, perché esplosa questa scena dove lei sta cantando, poi... Cos'è? Ha fatto zitta, sì. Se fai il mimo in radio non ti sento. Eh, lo so, però c'è la diretta. Ah, ok, allora, quindi andate a vedere la diretta video, così capite. YouTube, sito, tutto quanto. Sembra quasi che ci sia così affezionata quasi perché lo fai tutto, quella roba lì, vero? Sembra quasi che perché, se voi non lo sapete, ma appunto dietro a tutto quello che è YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, LinkedIn e tutto, c'è la buona Ginevra che è lì che prende i pezzi e incola... No, esatto, grazie a Ginevra che... Tagli e cuci di Ginevra, ma poi c'è la bravissima Bea che, insomma, si mette lì e questo va lì, questo va lì, questo va lì... Se avete voglia... Ah, ok, senza pressione, no, pensavo fosse pressione per te, nel senso, no? No, no, se per loro. Senza pressione, poi se non andate non ascoltateci più. Eh, fai. Non siamo più vostri amici, facciamo anche noi, non diciamo più il vostro nome come fa appunto Sabrina Carpenter con la Cabello, che... Vabbè, comunque... Un po' di gossi. Un po' di gossi, va bene. La cosa interessante è che, appunto, una delle canzoni più banali e inutili della storia della musica, secondo me, in realtà, vedi, sotto, se basta andare a parlarci con questi ragazzi della generazione Z, si scopre che invece c'è molto di più e che quindi può anche ispirare, come piace molto dire agli americani, ad esempio le ragazzine che, insomma, un po' più di indipendenza la cercano e, insomma, giustamente, anzi, la pretendono anche. Grazie, Berzi. Grazie a voi. A lunedì prossimo. Ciao, ciao. My head is a jungle. 7,50 minuti e che jungle c'è anche nella mente di tutti voi che ci seguite ogni mattina e la jungle anche che dovete affrontare, che è quella jungle che è Milano, non la città, la città di Milano, sempre più difficile, conclusionata, va bella, illuminata, oscura, chi lo sa, non lo sapremo mai, mai lo capiremo, ma vado a leggere invece da Repubblica Milano un articolo perché, lo abbiamo detto ormai tutti i giorni quasi lo raccontiamo, il grosso problema che c'è dietro al trasporto pubblico milanese, uno dei problemi che ci sono dietro, appunto, a tutto quello che è il TPL, appunto, il trasporto pubblico locale, è la mancanza di autisti. E allora cosa si è cercato di fare? Che però anche lì vorrei capire come mai ci sono adesso. Cioè vorrei capire, guarda, a Milano la prima linea TM va ai privati, non ci sono autisti per guidare il bus. Sulla 46 da Famagosta al quartiere Cantalupa esordisce anche a Milano l'affidamento esterno. altre tre tratte nell'Internet, il personale sarà recuperato altrove per tamponare la crisi, i sindacati dicono scelta necessaria perché il sistema non regge più. Però vorrei capire, cioè perché l'altra azienda di guidatori c'è già? Cioè è questo che non ho capito. Cioè se io a TM non ho i guidatori, benissimo, non ho gli autisti guidatori, gli autisti. Perché l'altra azienda ha gli autisti? Io questa cosa qui non ho capito, mi piacerebbe se qualcuno me la spiega un po' meglio, ok? Leggete l'articolo perché in realtà vi spiega tutto bene anche perché i sindacati sono scesi a dire va bene, cioè nel senso non c'è stata grande, cioè sì c'è stato un po' di bagarre, ma poi alla fine ha detto niente, si può fare, nel senso bisogna farlo così. Tra parenti il presidente della Commissione Mobilità di Palazzo Marino, il nostro amico Carlo Monguzzi, ha convocato una riunione per il 30 ottobre per affrontare il tema insieme ai vertici di ATM. Al momento, secondo gli ultimi dati riferiti dall'azienda, a Milano mancherebbero circa 350 autisti e le difficoltà per reperirli sono state veramente. diverse, così dice appunto ATM, e continuano ad essere abbastanza complicata la ricerca di quello che è successo appunto, cioè della non reperibilità degli autisti. Il sindacato, che comunque dice purtroppo bisogna farlo, dice anche che non è una buona notizia esternalizzare le linee urbane, non era mai successo, appunto spiega Matteo Franco, sindacalista della CGL. Questo purtroppo è accaduto perché continua a peggiorare la qualità del servizio del trasporto pubblico locale. Quotidianamente ce ne accorgiamo, si lavora in una situazione peggiorativa e tutto si sta riversando sull'utenza, ritardi su ritardi, corsi tagliate. Subaffitare le linee è una spia del problema, è un tentativo che si è reso necessario perché il sistema non regge più. Quindi i sindacati, anche loro dicono, non possiamo più, cioè sì facciamo bagarre, facciamo gli scioperi e tutto, ma in qualche maniera dobbiamo andare ad arginare. E questo è un arginato. Accordi di questo tipo, attenzione però, TM li ha sempre siglati per linea extraurbana e per alcune anche tratte speciali, come ad esempio la navetta per il trasporto scolastico. Ma per le linee urbane non era mai successo. L'autobus 46 inoltre risulterebbe in questo periodo alleggerito anche in virtù del riordino che è stato fatto con l'arrivo della M4 e le conseguenti rimodulazioni e modifiche di alcuni tracciati. Da qui appunto la scelta di optare per l'accessione, appunto, ma soprattutto con il subappalto della linea si potrà risparmiare in conducenti di ATM che verranno spostati su altre linee. Quindi ATM recupera da lì e li sposta da lì. Anche se neppure la STAV, per quanto riguarda il numero di autisti, pare essere molto in salute però. E questo è il problema. Dai pendolari dell'Internad, sud ovest di Milano, sono arrivate diverse relazioni per i servizi sulle autolinee di trasporto pubblico, appunto, locale gestito dalla STAV. Da inizio settembre, infatti, anche qui la moria di conducenti ha iniziato a gravare sul servizio con ricadute sugli utenti. Quindi qua incominciamo a spostare la palla, ma la palla si sta sgonfiando sempre di più. Just Illusion, Imagination, alle 8 e 12 minuti qui su Crystal Radio. Good Morning Milano, vi ricordo sempre il 96.2 FM da cui potete ascoltarci, o il Dub Plus, il Dub Plus, la mode che avete sulla vostra autoradio in tutta la Lombardia. E poi comunque ovviamente c'è anche il web, sia sul sito internet di Crystal Radio, sia sulla app per iOS e Android. Sono le 8 e 13 in questo istante, inizia la seconda parte di Good Morning Milano e inizia con la nostra ospite di oggi, che è Giovanna Borella, ma tutti la conoscono come Mr. Joe. Buongiorno, Joe. Good morning, buongiorno a tutti, eccomi qua. Eccola qui. Allora, Giovanna, sono contentissimo di venire averti qui. Io un bel po' che non ci vedevamo, era tanto, era tanto. È vero. Ma facevamo i conti che praticamente ci siamo visti forse la prima volta una decina di anni fa oramai. Esatto, esatto, concordo. Quasi dieci anni fa, se non sarà fra due mesi, sarà tra poco. Ecco, anzi, come si dice nel mondo del calcio, non dieci anni fa, dieci stagioni fa. Dieci stagioni fa, esatto. E perché sei qui oggi? Perché le tue attività nel mondo del calcio femminile non si fermano mai, ma per quei pochi distrati che in questi dieci anni hanno guardato altro, non so cosa, ricordiamo un attimino cosa tu ti sei messa in testa due dieci anni fa e cosa stai continuando a fare da dieci anni. Avevi la testa nel pallone, mi verrebbe da dire, no? Da quando sono nata. Ho fatto sempre la mia scuola calcio ASD, bimbe nel pallone. Bimbe nel pallone. Scuola calcio femminile Nolo, perché sto a Nolo e mi occupo in quella zona di far giocare da bambine piccole di tre anni fino a donne, mamme, donne, adulte. Ricordo che giocare a calcio, ecco, che è importante. Ecco, giocare a calcio, che è importante, quel giocare soprattutto, no? Esatto. Nel senso che non è... Anche perché, adesso poi lo capiremo meglio, quello che magari per noi maschietti è scontato, cioè io posso scegliere di andare a giocare a calcio o no, e avere una pletora di squadre cui scegliere quella più bella, quella meno bella, quella più blasonata, quella meno blasonata, quella più costosa, quella meno costosa, non è così per una bambina di quattro anni, ad esempio. Esatto, non è ancora così, nonostante la famosa frase, il calcio femminile sta crescendo, è vero, è vero, sta crescendo, sta crescendo il numero, lo vedo a differenza sulle spiagge, mamme e bambine che giocano insieme con la mamma, ma rimane il problema drammatico, più grosse, lo spazio e il rispetto per un'associazione, società sportiva femminile. Al momento della richiesta dello spazio non vieni considerato come una società maschile. Perché quelle squadre che conosciamo abbastanza bene, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, siamo andati anche all'arena civica a vederle giocare, siamo stati anche allo stadio di San Siro, a vederle giocare, un Milan-Juve, mi ricordo se non ricordo male, però appunto sono emanazioni delle squadre maschili che fanno, anzi, diciamo, costrette dalla regola nuova della FIGC ad avere una squadra in Serie A, giusto se non ricordo male. Esatto, è stato un obbligo, diciamo, come poi nelle piccole associazioni quella di avere anche loro una figura di squadra femminile, però ripeto, proprio un obbligo, però non viene spontaneo quello di dire, ok, se è una società sportiva femminile, hai bisogno, il tuo spazio, è inutile che lo dico, lo spazio. Ma esistono squadre, esistono società sportive solamente femminili? Sì, 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 esistono, esistono. E hanno difficoltà, però, appunto, come dicevi. E hanno difficoltà, però, diciamo, esistono molto di più fuori Milano, Cinisello, Bresso, nell'Interland, ecco, diciamo. A Milano io penso di essere ancora l'unica che fa Fustal. Fustal, che cos'è il Fustal, ricordiamo, per chi magari è meno... Esatto, abbiamo il famoso calcetto, calcio a 5, che puoi giocarlo di solito nelle tenso strutture, nei vecchi campi da tennis, ecco. Qui in tennis, ok, adesso però non ci sono più perché sono pieni di campi da padel. Esatto. Anche questo, cioè, la guerra tra gli sport è sempre pazzesca, c'è un momento della pallavolo che devi litigare col basket, poi c'è del tennis che devi litigare col padel, e tra tutte queste, quella che litiga praticamente con tutti o meglio, che viene lasciata un po' da parte, appunto, è magari neanche il calcetto a 5 femminile, che comunque appunto ha difficoltà nel trovare gli spazi. La cosa bella di Bimbe del pallone è che tu l'hai chiamato Bimbe, hai iniziato ovviamente, dicevi prima, dai tre anni in su praticamente, ma il tuo cavallo di battaglia, diciamolo, è una squadra invece di mamme, giusto? Esatto, esatto, perché giustamente anche lì è importante, io penso quanti di voi, bambini, maschi, soprattutto perché come dicevi giustamente tu prima, fanno ancora il boom, quanti avete chiesto alla vostra mamma che vi porta i borsoni, vi lava le scarpe, ma mamma, ma tu non vorresti giocare un pochino a calcio o con me o comunque magari giocare a calcio? Questa è una domanda importante che mi sono fatta e soprattutto dare spazio a mamme, donne per giocare Bimbe del pallone quasi ormai dieci anni fa, perché nel 2025 faremo i dieci anni di associazione, funziona ancora con alti e bassi ovviamente, ma funziona. E allora questi alti e bassi adesso li andremo a scoprire meglio appena rientriamo dopo la prossima canzone perché c'è tanto da dire, ma soprattutto adesso voglio capire bene questo discorso degli spazi, perché questa cosa degli spazi lo sento fare dalle società più piccole di roller derby, dalle società di pattinaggio, cioè veramente c'è un grosso problema di spazi e ovviamente anche in questo caso per giocare le tue società hanno bisogno di spazi e trovare degli spazi consoni e soprattutto anche in linea con quello che poi è quello che è andata a fare, che con gli amici siete società professionisti che stanno parlando di sport dilettantistico, insomma è importante anche dividere le due cose. Un po' di musica e poi torniamo sempre qui con Mr. Joe, Giovanna Borella qui a Good Morning Milano. E questi con i Simple Minds con Don't You Forget About Me dal 1985 invece dal 2015 e fino ad oggi invece Mr. Joe con Bimbe nel pallone. Giovanna, tu appunto diciamo prima ci sono varie squadre che sono all'interno del mondo della sfera di Bimbe nel pallone, ci sono la squadra delle mamme che è proprio quella classica diciamo, poi ci sono le Nollers Junior, giusto? Esatto. La Nollers FC Woman, che è quella un po' più strutturata, ma adesso è data questa nuova squadra che si chiama Nollers Game. Esatto. Che differenza c'è e chi sono? Ma allora, la differenza è diciamo l'età va sempre da maggiorenne a finché le gambe non mi reggono in piedi, che è il mio motto. che è importante aver voglia di giocare, sempre la parola di prima. La differenza è che quest'anno proviamo a fare un mini torneo e finalmente una cosa importante abbiamo un portiere, addirittura ne ho due, che nelle file di Bimbe nel pallone è una cosa che è sempre mancata, perché come sai ho un ruolo ancora al giorno d'oggi che è un po' difficile, che qualcuno, soprattutto magari nelle donne, dice chi è che vuole fare il portiere. No, perché guarda, io sono degli anni 80, per noi ad esempio c'era la corsa a fare il portiere perché c'era Walter Zenga, allora c'era il mito e quindi oh voglio fare Walter Zenga, o Zoff, però effettivamente se anche lì non hai dei punti di riferimento, è complicata questa cosa qua, voglio fare l'attaccante e molto probabilmente anche magari le ragazze dicono voglio fare Messi, però comunque non è che dicono voglio fare lui, infatti no? Ma forse adesso Donnarumma qualcuno, però ancora a me non è capitato, però diciamo la differenza è un po' questa, è lanciare anche sì il gioco come parlavamo prima, ma anche cercare di fare anche un mini torneo, ma sempre con la parola di divertirsi, di stare bene, senza ansia e soprattutto queste knowledge games, essendo ragazze, donne che comunque lavorano, chi ha famiglia, non vogliamo fare dei tornei durante la settimana, durante il weekend, ma farlo durante la settimana con un allenamento e una partita, perché giustamente hanno le loro vite, sono spesso mamme, sono spesso adulti che magari potrebbero fare altre cose, compreso il mister, anche perché il mister mi sa quante altre squadre già che deve stare dietro poi, anche quello, perché parliamo però di questa squadra perché attualmente è la squadra un po' orfanella di un luogo, nel senso che in realtà poi alla fine l'hai trovato, però dove l'hai trovato? E appunto avendo questo, io lo chiamo il triangolo di Milano, tra Milano e Bresso, che ringrazio tanto il Paolo Conte che è il presidente delle Bresso Woman, e che ci contavamo sulle dita, su queste poche squadre che giocano a calcio femminile a livello dilettantistico e mi ha detto, guarda, io ti posso dare una mano, ci uniamo e avendo appunto io un grosso problema di strutture, sappiamo che sull'Interlanda gli spazi sono molto più ampi, poi mi dice anche lui ha le sue fatiche, ma ovviamente si parla di numeri molto più alti, io arrivo a 40, massimo 45 iscritte, qui si parla di 150 e oltre persone, quindi mi ha dato un aiuto proprio perché io facendo fusta, come dicevamo prima, calcetto, capisco che poi magari qualche ragazzina, donna, ragazza voglia provare anche un calcio a 9, un calcio a 7, a giorno d'oggi se ne inventano di tutte, quindi anche un calcio a 11, cosa che io non posso offrire, ma mi rimane diciamo sempre una mia calciatrice che però va ad allenarsi a Bresso, e lì è finita le Nolers Game, che dovrebbero stare a Nolo, si chiama Nolos Game, ma sono a Bresso, Nolo tra parentesi Bresso Game, sono lì perché c'è proprio una questione di spazi, e verrebbe però sempre, fa sorridere questa cosa, sempre fa sorridere a Mr. Joe fa un po' meno sorridere, il fatto è che appunto una città con 1.400.000 abitanti, con una cifra di società sportive, tutto, non abbia veramente lo spazio per delle ragazze che giocano a Fussan. Esatto, soprattutto in una città che sta per ospitare le Olimpiadi, ricordiamo questo particolare importante, e non si trovano degli spazi. Tu, conoscendoti, sono già sicuro che la risposta è sì, sei andata praticamente a citofonare a ogni porta che esista a Milano, giusto? Esatto. Perché la risposta è che non ci sono spazi? Qual è la motivazione? in palestra ce ne sono, c'è così tante società sportive, come mai non ci sono spazi? Non ci sono spazi perché, vabbè, come dicevo prima, sono un'associazione piccola, ancora non c'è rispetto e la fiducia su una donna che vuole mettere su una scuola calcio, che ormai, ripeto, è da dieci anni, che lotto, mi sento un po' Don Quixote, ma sono contenta, è proprio questo, è ancora un po' sconosciuta questa scuola calcio, perché in realtà dà la possibilità davvero a tutte di giocare. E allora, non lo capiamo meglio, anche dopo la prossima canzone, piccola pubblicità e poi canzone, perché poi, se volete, potete approfondire anche con un libro, giusto? C'è anche un libro che il Minister Gioca ha scritto, e quindi potete scoprire ancora meglio la storia delle bimbe nel pallone, insieme a Gianna Borella, qui su Crystal Radio. Good morning, Milano! Achille Lauro, amore disperato, alle 8.36 minuti, come disperata è la ricerca di uno spazio di Mister Gio, vero, Giovanna? Siamo disperati qua, dobbiamo trovare per forza, anzi facciamo un appello, anche chi ci sta ascoltando, se sa di qualche situazione in cui potrebbe saltar fuori un bello spazio per il calcio a 5, per le Nollors Game, insomma, Nollors Game, insomma, no? Contattare Giovanna, come si dice in questi casi, Citofono Giovanna. Esatto, Mister Gio, se volete. Ecco, Mister Gio, che è anche autrice di un libro, che ormai è un paio d'anni, che possiamo avere la possibilità, scusate il gioco di parole, di leggere e che racconta la tua storia, o meglio, la storia delle tue bimbe nel pallone. Esatto, alternata dalla mia storia, hai detto giusto. Il libro si chiama Le ragazze di Mister Gio. Ricordiamo che, adesso, non c'entra niente col pallone, ma la tua storia ha un primato, vero, ricordiamolo velocemente, questo primato che tu hai. La prima adozione internazionale in Italia. Ecco, cioè. Nel 1967. 67. 67. Nel 1967, Giovanna è stata la prima bambina, già nel pallone, un po', già nel pallone, all'epoca, che ha usufruito della legge sulle adozioni internazionali in Italia. Esatto, poi il resto lo leggete nel libro. Ecco, va bene. Ma il resto racconta poi anche delle altre bimbe nel pallone, giusto? Esatto, esatto. Il libro nasce proprio nel periodo del Covid, dove penso di essere stata l'unica che ha proposto la dad del calcio, nel mio caso, perché, come sapete bene, per due o tre anni i ragazzi, i bambini, i nostri giovani, non hanno fatto mai attività fisica, che è importante, è molto importante. Allora io in quel momento lavoravo proprio, collaboravo con la scuola Casa del Sole nel Parco Trottere, Nolo, dove vivo, dove sono cresciuti i miei figli, dove sono cresciuta io, mi ha fatto crescere anche come scuola calcio e quindi giustamente le Nollers Game e tutte le altre devono rimanere nel Nolo. Allora cosa è successo? C'era Stefania Carini, che è una giornalista, che vive anche lei nel Nolo e le hanno dato questo incarico di trovare qualcuno che portasse avanti delle attività, nonostante questa situazione pesante. E parecchi le hanno detto, ma contatta Mister Joe. Allora ci siamo sentite, mi ha iniziato a fare un po' in questa intervista, le ho raccontato della DAD, della mia adozione e lei siccome appunto ha un suo blog Effetti Personali, dove a un certo punto l'ha visto Mario Calabresi e Mario Calabresi ha detto, ma bellissima storia, ovviamente l'ha diffusa anche lui avendo mille contatti più di me, siamo arrivati a Mondadori Ragazzi che hanno fatto il libro, hanno messo in distribuzione il libro, nel quale poi abbiamo vinto proprio il premio Gianni Mura, che sapete chi non lo conosce, è stato un grande giornalista in Italia di sport e è un premio importante perché è stato deciso soprattutto da due anni fa, è stato aperto proprio la votazione anche ai ragazzi e quindi è stato bellissimo anche tutta la conseguenza di incontrare i ragazzi che l'avevano letto. Cosa ti dicono appunto? Prima di tutto ci dà la notizia che i ragazzi leggono i libri, che già questa è una bella notizia nel senso che comunque qui si dice che nessuno legge e invece molto probabilmente sembra da quello che anzi alcuni dati ultimi usciti danno che in realtà, sì, siamo noi vecchietti che non leggono, ma in realtà i giovani stanno ritornando a leggere, no? Esatto. E ritornano a leggere anche i libri interessanti come quello appunto di Mr. Joe, cosa dicono quando poi ti incontrano? Ma è molto bello, sono stati tanti incontri, le ho fatti, anche lì un po' mi è dispiaciuto che anche a Milano non c'è stata questa grande occasione, ma ultimamente sono andata a Bono, che è un paesino, è un provincia di Sassari, mi sono invitato in Sardegna per il Festival del Libro, sono andata al libro quello di Torino, sono andata a un po' di posti in giro nell'Interland, il Mr. Joe on tour abbiamo fatto, giusto? Esatto, mi piacerebbe che fosse un po' più lanciato anche a Milano perché appunto è un libro... E ci sono le bimbe che lo leggono? Ci sono delle bimbe che l'hanno letto, è divertente perché ovviamente essendo la storia anche delle mie squadre, dei miei corsi, non potevo mettere giustamente il nome di Alessandra, era davvero Alessandra, allora era interessante vedere, vengono da me, ma Mr. io sono... non ci sono, ma perché non mi hai messo? Non posso mettere esattamente il tuo nome, ma leggendolo io mi auguro che tu possa vedere in Francesca una ragazza come te, quindi è bellissimo che si raffigurano in certi personaggi che, come dicevamo prima, non ci sono ancora molte figure femminili di riferimento per le bambine, per le calciatrici. Eh, infatti, perché quali sono? Tu appunto che hai tutti i giorni a che fare, ci sono ormai, cominciano ad esserci qualche figura o ancora niente? Perché qualcuno ogni tanto salta fuori i giornali? Esatto, no, ancora pochini, perché quando io dico, non so, una Sara Gama... Eh, pensavo proprio a lei, pensavo. Esatto, che è un personaggio molto importante che se mi sente, spero che la saluto direttamente, e non ancora molto diffuso, sì, un po' la Girelli iniziano ad essere, però non come, dicevamo prima, un Donnarumma o un Nessi, quindi anche questo, è una parte che deve un po' crescere a dare un po' di figure. Quindi da una parte diciamo che mancano dei punti di riferimento femminili per il calcio femminile, nel senso che ci sono, si fanno un mazzo tanto, ma fanno fatica a emergere, perché poi dopo in realtà quando poi si vedono e si conoscono e si incontrano, ad esempio una Sara Gama, cioè ti svolta la giornata, quando poi la incontri e la senti parlare. Poi mancano, credo anche, diciamo, la struttura spesso e volentieri, nel senso che appunto, a parte gli spazi, le società comunque sono poche, fanno una fatica, come ad esempio dicevi il tuo amico Del Bresso, che fa una fatica pazzesca comunque, credo, a tenere in piedi una società di calcio femminile, giusto? Assolutamente, assolutamente, ha il vantaggio, in più di me, di avere un oratorio un po' più accogliente, che qui ancora non troviamo. Però niente molto di più, e in più penso anche a un livello di preparazione dei mister, dei vari mister giochi che ci sono, insomma, anche lì è difficile, perché come si diventa allenatrice o allenatore di calcio femminile? Eh, devi fare il corso di allenatore, poi io ho fatto come scelta il CSI, però ovviamente c'è la FGC. Ma hai fatto come scelta il calcio femminile proprio. Non come ripiego perché era una da ripiego dall'altra parte, che so che invece ogni tanto può succedere questa cosa qua, no? Esatto, dico magari mi lancio sul femminile perché no, ho fatto proprio come scelta, come ho detto poco fa, per chi si fosse collegato da poco, è proprio come scelta, perché io oggi ho giocato fin da piccola e fin dai miei primi passi, ai 40 anni, ho sempre giocato con i maschi, quindi devono avere anche loro la loro scuola calcio. E quindi da scuola calcio femminile servono e appunto Mr. Joe ci prova e continua a provarci, lo fa anche perché non è solo tentativi, perché poi i risultati arrivano, meglio sarebbe, sarebbe, so ancora meglio, più alti risultati. Ma insomma, ci stiamo lavorando. Rick James con Super Freak alle 8 e 47 minuti qui su Crystal Radio, Good Morning Milano e per niente Freak, anzi, ben concentrate sull'obiettivo, sono le bimbe nel pallone e la nostra Mr. Joe, Joanna Borella, che è qui con noi, che ci sta raccontando appunto, stavo dicendo che tutta questa storia appunto la si può trovare in un libro, che si può trovare dove? Che magari, insomma, così si avvicina a Natale, uno... Esatto, sì, la trovi su Amazon, la trovi da Mondadori, in tutte le librerie tranquillamente. Anche al libraccio per chi sta in Viale Monza, in zona Nollo, lo troverete anche lì. Le ragazze di Mr. Joe, giusto? Ok. Mondadori ragazzi, la casa di editrice. E visto che si sta vincendo Natale, parliamo anche di panettone, in che senso? Perché l'anno scorso ti hanno dato un panettone prezioso, ti hanno dato un prezioso panettone, raccontaci. E ho ricevuto il panettone d'oro, un riconoscimento alle virtù civiche, quindi come dicevai proprio tu prima la domanda, ma lo faccio così di ripiego questo lavoro? No, perché proprio come passione, e quindi sono stata felice di essere stata riconosciuta proprio per il mio impegno, la volontà di fare questa cosa molto importante. Sì, c'è Serie A, abbiamo l'Inter e Milan, che è molto bello, nel senso che fanno vedere il calcio alle ragazze gratuito finalmente all'arena, cosa che io penso che sul maschile non l'ho mai vista. Infatti, insomma, avete sempre tanto da insegnarci, avete sempre tanto da insegnarci voi donne, c'è poco da fare. Però se è bello che esista appunto quello, deve essere altrettanto bello e anzi forse ancora più importante che esista invece lo step precedente, cioè il fatto che appunto una bambina di 5-6 anni possa dire, sai che c'è mamma, voglio andare a giocare a calcio, e possa uscire di casa, prendere la prima strada che trova, trovare la prima società e andarci a giocare. Esatto, e soprattutto che, come dicevi tu, una bimba anche di 3 anni non possa avere subito già un rifiuto, che ovviamente parliamo di rifiuti, possono aiutare a crescere, ma qui si parla di un rifiuto che non deve essere un rifiuto, deve essere un'accoglienza, quindi bimba nel pallone accoglie soprattutto anche durante la stagione iniziata, no? Tante volte capita ma mamma voglio iscrivermi a pattinaggio? No, guardi signora, il corso è pieno, quando poi invece possibilità di appliare i corsi li hanno, invece è proprio una questione di accogliere. In bimba nel pallone le porte sono sempre aperte. Esatto, sono sempre aperte per chi ha sempre voluto giocare, chi avrebbe voluto ma non ha potuto e chi vuole giocare. Anche me ricordiamo appunto che parliamo davvero, adesso parlavamo di bambini di 3, 4, 5 anni, ma anche se avete 45, 55 anni e le gambe vi reggono, come dice appunto Mr. Joe, c'è un posto per voi. Esatto, assolutamente, che è proprio il corso di mamme e donne adulte, che è un momento di aggregazione, dico io proprio, a posto di andare, che ne so, in palestra senza nulla togliere alle palestre, si fa aggregazione su un punto importante, ecco, se non c'è la palla. Ma siamo pronti, noi maschietti, noi mariti, a dover dire, aspetta, dobbiamo mangiare presto oggi perché poi mia moglie deve uscire che ha il calcetto questa sera, cioè. Non lo so, ancora no, perché quest'anno fa un po' più fatica a partire il corso perché magari le risposte sono, no, devo organizzarmi con i figli, io proprio anche questo, il corso di mamme è... Sono una battuta cattiva, questi figli che sembrano tutti orfani a un certo punto, si capisce com'è che non c'hanno mai l'altro genitore, mi spiega, cioè non c'hanno mai l'altro genitore, non si capisce. O c'ha caccetto il Pilates. Infatti non si capisce mai questi figli, perché devono sempre essere... Esatto, un'altra cosa proprio di questo corso mamme e donne adulte è di fare al contrario, quindi la mamma che esce con la borsa da calcetto e dice ciao bello io vado a giocare a calcetto e il marito disperato mentre sta dando la pappa cambiando pannolini, in più lei dice, torna dietro un passettino e gli dice guarda che c'è anche la birra, ci beviamo una birra e poi arrivo. Ecco c'è anche il terzo tempo come si dice in questi casi. Beh insomma però sarebbe insomma, se no trovate il modo, trovate la stessa sera andate, il bambino lo mandate a mini basket, voi andate a giocare a padel e la vostra moglie va a giocare a calcio con il pallone, direi che è perfetto, fate la serata sportiva così tutti possono trovare il modo. No, effettivamente c'è anche questo scoglio che è molto interessante e chissà cosa hai visto tu in questi anni, non voglio neanche immaginare. Di tutto, di più, poi ad esempio un'altra situazione bella, nuova di adesso, una mamma che se ne avrà 43 e tanto, mi dice ma sono un po' indecisa se giocare con questa squadra delle games perché sai un torneo, le ho detto guarda io da mister secondo me ce la puoi fare però ovviamente non voglio obbligarti. e quando lei è tornata a casa i figli gli hanno detto che giocano a calcio, mamma o lo fai adesso o non lo fai più. Ah beh vedi, 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 vedi che alla fine i primi endorsement arrivano proprio, i primi fan ovviamente sono i propri figli. Quindi vedete anche quest'ottica, e poi posso aggiungere, è anche un insegnamento molto importante per i propri figli, cioè che fa capire che a qualsiasi età, anche a 43 anni, anche a 50 anni, insomma, se hai una passione, che ovviamente non credo che lei voglia, questa ragazza di cui parlavamo, non è che voglia diventare professionista o cosa, ha semplicemente voglia di giocare a pallone. Giocare, giocare. Perché no? E gioco anch'io che ne ho ancora 58. Eh insomma, tu sei mister, tu sei mister Joe, cioè tu sei avvantaggiata in questo caso. Giovanna, grazie mille di essere stata qui con noi questa mattina. Di cuore a tutti voi. È sempre bello vederti qui, mi raccomando, portaci tutti gli vari aggiornamenti sul tuo cercare, pergrinare, ma poi è bello quello che trovi uno spazio, a quel punto quando l'hai trovato ti inventi qualcosa di nuovo, perché poi anche questo con te è il problema, no? Cioè che ti inventi ogni tre per due qualcosa di nuovo. Esatto, assolutamente. Quindi devo stare attenti. Ci sarà una novità, chi lo sa. Ecco, allora rimaniamo collegati, Giovanna Borella seguitela, cercatela sui social, è presente, seguite appunto anche le bimbe nel pallone, se passate da Nolo fate un fischio, intanto lo trovate sicuramente da quelle parti lì che passa di qui o di là, e davvero sono quelle storie belle che Milano ci piace seguire e che Milano ci regala tutti i giorni. Quindi grazie Giovanna. Grazie a voi di tutti di cuore e buon ascolto. E porta un saluto appunto a tutte le bimbe nel pallone. E adesso per noi non rimane che dire sigla! 8 e 54 minuti di oggi lunedì 28 ottobre, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano. Dopo di noi, lo sapete benissimo anche voi, chi andrà in onda, ma lui, Ambrogio Curti con Senti Questa alle 9.05, dopo il giornale radio, la voce preparatissima, competentissima e le bellissime storie che girano intorno alla musica. Ambrogio Curti con noi qui a Senti Questa alle 9.05. Se invece volete riascoltare tutto quello che è successo questa mattina o nelle mattine precedenti, c'è il nostro sito goodmorning.milano.it. Trovate tutto quello che succede qui in studio, le varie rubriche, le varie interviste, tutte le nostre puntate, la poter riascoltare comodamente da casa, la poter anche rivedere comodamente nel vostro smartphone. Lo potete anche fare grazie a Spotify ed Apple Podcast. Poi ovviamente c'è anche il sito di Cristal Radio, dove potete ascoltare sempre la diretta ogni mattina dalle 7 alle 9. Le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Filippo Poletti, di Beasi e anche di Giovanna Borella. Qui con voi Fabio Ranfi in Regia Gineva. Grazie mille a tutti, ci sentiamo domani mattina sempre qui alle 9 su Cristal Radio. Ciao domani! Ciao domani!